ero a spasso con il mio cane e improvvisamente mi sono vista raggiungere da un cane più grande che rincorreva il mio ho tirato su il mio cane lo preso in collo il cane mi ha seguito fino a casa ed è un labrador? io presumo sia un labrador, sì giovane, piccolissimo, è giovane penso che è un cucciolo, un anno e mezzo, due noi possiamo dire che l'ha trovato in via Fosse Ardiatine a Bastiolla in via Morosina, una parallela di via Fosse Ardiatine esatto, grazie fatti vedere un po' diviso che sei bellissimo fatti vedere